musica 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 lillo siamo arrivati al cartoon mix tre giorni e già voglio morire andiamo a rompere qualche culo andiamoci musica 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 per ICW, perché ICW è la migliore promozione in Italia. Ciao, sono Kylian Jacobs, da United Kingdom. Sono qui a Cartumix, con ICW Italian Championship Wrestling. Sono stati in un'ottima spazio di tutti i giorni. Sono molto fortunato di essere partecipato. Mi piace essere qui, e spero di tornare. Voi ragazzi, ho fatto un'ottima, grazie a tutti. Sì, guarda, Kylian Paigna, Aerial Hybrids, here at Cartumix for ICW, tearing it up in that ring over there. Didn't get all the results we wanted, but hey, Italy's a great place to come, great place to be, and ICW is where it's at. Tell them. It is the best place we've ever been in Italy. It is the most fun, and it is the nicest locker room. We can't wait to come back. See you soon. Peace. Non farlo più, ti ammonisco! E' finita, ce l'abbiamo fatta. Come mi chiamo? Siamo sopravvissuti a Cartumix 2019. Come siamo di bello? E' adesso ora di andare a casa. Andare a casa? Sì, c'è ancora una casa, Lillo, anche se non te lo ricordi più.